Due gli angiografi nuovi donati recentemente all'ospedale Infermi di Rimini, apparecchi di ultima generazione del valore di oltre un milione di euro. I due macchinari arrivati in questi giorni sono ora sottoposti a collaudo e saranno pronti per l'utilizzo prossimamente nel nuovo reparto di cardiologia. Una donazione effettuata dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara che ha dunque affrontato con serietà il tema della prevenzione e cura della salute dei riminesi. Nello specifico si tratta di una suite di apparecchiature per l'allestimento delle sale di emodinamica ed elettrofisiologia del nuovo reparto di cardiologia dell'ospedale Infermi, comprendente in particolare due angiografi digitali e due fisiopoligrafi che rappresentano lo stato dell'arte più avanzato della tecnologia del settore. Sono apparecchiature che utilizzando le radiazioni raggi X permettono ai medici cardiologi e ai medici radiologi di indagare, nel nostro caso di cardiologia, indagare all'interno delle coronarie per cui noi possiamo fare diagnosi di malattia delle coronarie e poi di conseguenza eseguire anche delle terapie che oggi giorno vengono diffusamente effettuate con la cosiddetta tecnica del palloncino e la disostruzione delle coronarie. Noi abbiamo una rete cardiologica, una capacità di risposta ai problemi cardiologici in Romagna importante e di grande qualità su tutti gli ambiti territoriali delle tre ex province. Dobbiamo chiarire bene i contorni anche del rapporto con il privato che è altrettanto importante.